tifosi viola un saluto da leonardo andrini vi svelo una cosa o avevo appena finito di fare il video su ciò che sto per dirvi ma non avevo schiacciato il rec ma non avevo schiacciato dai che quindi ripartiamo come se non ci fosse un domani come se fosse antoni anche voi lo voglio essere proprio schietto e sincero oggi si parla dopo il video di ieri sera delle maglie oggi si parla dell'arrivo di malquite visite mediche tutto a posto tutto ok prestito secco dal napoli ed è un'operazione questa che chiaramente come sempre a firenze ha scatenato i pro e i contro ha scatenato l'ira di chi non sopporta niente di ciò che viene fatto da prate commisso e chi invece in qualche maniera avere il bicchiere mezzo piano nel mezzo ci sono io stavolta nel mezzo ci sono io perché se su cacorin visto che si pronuncia così se su cacorin io mi sono un po arrabbiato dicendo ma scusate ma prima di giudicarlo guardiamo come è siccome nessuno di voi o la maggior parte di voi non guarda il campionato russo non voglio dire come permette come vi permettete come potete arrivare a conclusione dire ma questo cacorin fa schifo no fermi non è possibile nessuno di noi lo sa nessuno di noi lo sa perché pochissimi seguono il campionato russo io ogni tanto l'ho seguito ve lo voglio dire sinceramente ci ho detto è su malquite ragazzi io sto nel mezzo perché al di là della fiducia riposta nella proprietà e ti hai mandato via lirola che era sano va bene è un presa ti l'ha mandato via era sano per prendere un giocatore che sano non è che viene da un crociato l'anno scorso e che quest'anno ha giocato 20 minuti e quindi può partire un po lo storgimento di bocca da parte dei tifosi della fiorentina ed è normale tuttavia ricordiamoci che questo è un calci mercato stranissimo non per il covid e tutta questa pappardella che palle no non ve la faccio è che onestamente qui come vi ho sempre detto in tempi non sospetti qui sul canale o in tv vi ho detto sempre qui stiamo facendo fare il mercato a uno che sa già di andare via è un allenatore probabilmente diventerà un direttore tecnico comunque diventerà un dirigente della fiorentina quindi limitiamo al massimo i danni e quindi prendi due giocatori con i quali o senza i quali tutto resta tale e quale punto e basta c'è capito il discorso è questo l'arrivo di haorin e di malquite non cambia voglio dire la fisionomia di questa squadra o fa in modo che questa fiorentina esca più rinforzata o meno rinforzata sicuramente lirola che era considerato da prendelli la terza scelta dopo appunto casere se venuti a me personalmente non mi faceva impazzire ma non mi rispiaceva neanche quindi un attimino ci sono rimasto mandar via lirola seppure in prestito con diritto di riscatto per prendere malquite però è un prestito secco cioè fondamentalmente te non ti leghi a questo giocatore a giugno va via rivederci e grazie siccome a giugno si sa si sente dire da tutti ci sarà una grande rivoluzione benissimo che avvenga la rivoluzione quindi però non puoi prenderti e portarti in casa giocatori che hanno un punto di domanda sulla schiena enorme vedi conti anche conti non è stato chiuso perché perché il prestito secco il milan non accettava rifarlo probabilmente neanche il giocatore conti avrebbe accettato un prestito secco e quindi ecco perché probabilmente è saltato conti ecco perché probabilmente è arrivato malquite il discorso è questo poi per l'amore di dio malquite in forme e in salute mamma mia cioè io mi ricordo con con Ancelotti nel 2018 e 2019 quando giocava però come terzino destra e non come tutto fascia ha fatto veramente bene cioè si è fatto voglio dire si è arrivato al napoli un motivo c'è perché voglio dire al napoli non è che prendano gli scarsi di periodo con tutti il rispetto per cui si è arrivato al napoli un giocatore interessante è tuttavia ripeto qui non è non si discute il discorso tecnico qui si discute purtroppo il discorso fisico come spesso accade quindi però io sono arrabbiato per aver mandato via lirola e aver preso un giocatore che non è sano fisicamente ma altresì riconosco che ora devi limitare al massimo i danni e portarti in casa giocatori che vogliono un contratto di due anni tre anni o che cavolo ne so poi fanno la fine di tanti giocatori stiamo vedendo partire detto questo siamo davanti come ho sempre detto nelle ultime settimane a un fallimento del direttore sportivo Pradecchi mi auguro ma non perché mi stia sulle scatole ma mi auguro che a fine anno saluti gli si dà la medaglina gli si dà la medaglina arrivederci grazie questo è quello che penso fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate dell'arrivo di Malquite e dell'arrivo anche di Kakorin un abbraccio sempre e solo forza viola ciao